Utilizzo metodo breakup in spa. Spruzzare sul pelo sporco in maniera omogenea il breakup latte spray dell'animale trattato. Utilizzare un cardatore per spazzolare il pelo ed eliminare i nodi. Preparazione breakup shampoo. Diluire lo shampoo 1 a 10. Miscelare con un mini peamer. Applicare lo shampoo sul pelo asciutto, massaggiando delicatamente. Risciacquare con cura. Preparazione maschera. Breakup maschera diluizione 1 a 30. Applicazione breakup maschera. Applicare la maschera uniformemente sul pelo. Massaggiare con cura. Lasciare agire 5 minuti. Utilizzo metodo breakup in spa. Immergere il cane nella vasca. Attivare la spa per 20-30 minuti. Procedere con l'asciugatura. Spazzolare per eliminare residuo di nodi. Risultato finale. Metodo breakup. Riprese video effettuate con la collaborazione di Maria Rosaria Rana. Toelettatura, Robus e gli altri. Riprese video effettuate con la collaborazione di Maria Rosaria Rana. Riprese video effettuate con la collaborazione di Maria Rosaria Rana. Riprese video effettuate con la collaborazione di Maria Rosaria Rana.